Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vedremo dei microscopi stereoscopici adatti per osservare in modo tridimensionale, quindi per poter apprezzare oggetti nelle tre dimensioni. Partiamo da un microscopio base. Questo strumento, detto anche da campo, è facile da trasportare, funziona con due batterie stilo e ingrandisce 20 volte. L'ingrandimento di un microscopio è dato dalla moltiplicazione degli ingrandimenti degli oculari per l'obiettivo. Se un oculare ingrandisce 10 volte e l'obiettivo ingrandisce 2 volte, l'ingrandimento totale sarà 20x. Così abbiamo imparato anche a calcolare l'ingrandimento di un microscopio. Vale per tutti i microscopi ottici. Questo strumento ha un costo contenuto solitamente e non è un giocattolo, quindi è uno strumento base valido per iniziare ad osservare. Passiamo ora a un microscopio più impegnativo. Questo strumento ingrandisce 20 volte e 40 volte. Per funzionare ha bisogno di attacco alla corrente. È uno strumento da laboratorio ed è perfetto per osservare minerali, insetti, fiori, tessuti, schede elettroniche, monete e tutto ciò che ha uno spessore. È uno strumento completo. Poi volendo si possono aggiungere anche degli accessori. Si possono cambiare gli oculari e arrivare fino ad 80 ingrandimenti. Qui stiamo osservando dei cristalli presenti sulla carta abrasiva, sulla carta vetrata. Questo invece è un microscopio top, di grande qualità. Ha anche un costo maggiore rispetto ai due microscopi visti prima. Allo zoom è uno strumento che può andare da 2,5 sino a 160 ingrandimenti. Cambiando gli oculari e aggiungendo un moltiplicatore di focale sugli obiettivi. È uno strumento completo. Ha il cosiddetto terzo occhio dove si può mettere una telecamera digitale o una macchina fotografica. Qui vediamo che ha anche lo zoom. Quindi l'ingrandimento potrà variare in modo fine. Questo è l'attacco per la macchina fotografica o dove possiamo mettere la telecamera digitale per microscopia. Qui sotto vediamo l'illuminazione. Qui stiamo osservando un minerale, una fluorite. C'è la possibilità anche qui di aggiungere degli accessori come un campo scuro. l'illuminazione è diretta oppure anche per trasparenza dal sotto. Qui vediamo la cremaliera per la messa a fuoco. Come abbiamo detto, è uno strumento importante, molto valido, utile. Come tutti gli strumenti stereoscopici, i microscopi stereoscopici, può essere utilizzato per osservare parti di macchine, orologi, minerali, insetti, fiori, schede elettroniche, piccoli circuiti da riparare, sono strumenti dove oltre a osservare un oggetto, è possibile anche lavorarci sopra. Quindi con delle pinzette, con dei saldatori. Mentre osserviamo, andiamo anche a lavorare sull'oggetto in esame. Ecco, questo è un meccanismo di un orologio. Bene, vi ringraziamo per l'attenzione. Se volete avere maggiori informazioni sui microscopi da noi proposti, ecco il sito www.elettronicadidattica.com e se volete, potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Grazie ancora. Grazie. Grazie.